Senza il permesso della giustizia aveva cambiato luogo di esecuzione degli arresti domiciliari. I carabinieri lo hanno scoperto ed è finito in carcere. Un 61enne pluripregiudicato di Sala Consilina è stato colto in flagranza di reato per evasione. I militari impegnati in servizi perlustrativi di controllo del territorio e dei terreni agricoli per prevenire i reati contro il patrimonio hanno sorpreso l'uomo in località Pantano di Teggiano mentre era sottoposto in regime di detenzione presso la propria abitazione di Sala Consilina. Stava scontando la pena per reati di falso e contro il patrimonio. Il pluripregiudicato quando è stato scoperto dai militari della stazione di Teggiano ha dichiarato di aver deliberatamente violato la misura detentiva a cui era sottoposto perché non gli era stata concessa l'autorizzazione al cambio del luogo di esecuzione della misura restrittiva. Lui aveva chiesto alla giustizia di poter scontare i domiciliari invece che nell'abitazione di Sala Consilina nella sua casa rurale di Teggiano. La richiesta è stata bocciata e lui ha pensato bene di soddisfarla abusivamente. Per i carabinieri di Sala Consilina il 61enne si era trasferito a Teggiano e in più non si faceva scrupoli a girare per strada invece di rimanere chiuso in casa. L'arrestato è stato condotto nel carcere di potenza.